Nessuna volontà di chiudere il reparto di ginecologia ostetricia del Camberlingo di Francavilla Fontana. A rispondere alle preoccupazioni espresse dal centro-destra francavillese il direttore sanitario dell'AS di Brindisi Vito Campanile, che non nasconde però le problematiche di organico che ovviamente incidono nella gestione complessiva. Ad oggi nessun rischio per i cittadini quindi, nonostante la precarietà del sistema sanitario pugliese-brindisino. Al momento non c'è nessuna preoccupazione per quello che riguarda la chiusura, o almeno non c'è nessuna volontà di chiudere l'ostetricia di Francavilla Fontana. C'è in generale una, diciamo, problemi di personale, questo in generale, ma questo non è un problema soltanto nostro, è un problema che riguarda un po' tutta la regione, anzi oserei dire anche a livello nazionale, per il problema delle dotazioni organiche, per una serie di motivazioni. Però al momento non c'è nessuna volontà, diciamo, di chiusura. Sicuramente c'è qualche criticità legato a delle situazioni contingenti. Dico anche che stiamo facendo veramente l'impossibile, in ogni caso, per cercare di reclutare ulteriore personale, per coprire comunque le malattie. Ora abbiamo chiesto, già da una settimana, abbiamo chiesto tutte le graduatorie a tutte le AS della Puglia, in maniera tale da poter attingere per le sostituzioni, per coprire tutto il fabbisogno, così come previsto. In maniera tale da stare tranquilli e soprattutto a far lavorare anche un po' più serenamente gli operatori.